la trap e il rap ecco vediamo in questo video che cosa è l'uno e l'altro fornendovi la mia opinione il trap diciamo che è un sottogenere dell'hip hop che deriva dal southern hip hop che è nato nel sud nella parte meridionale degli stati uniti d'america e si sviluppò tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 col trap si può anche indicare diciamo così il genere di musica edm che nacque negli anni 2010 dalla fusione tra il trap e il dubstep va bene o dubstep che dir si voglia ossia la cosiddetta edm trap il rap il rap rap che dir si voglia diciamo che a mio avviso è un genere musicale un pochino più superficiale rispetto al trap ok cioè il rap ha diciamo così di fatto de facto una forma oratoria musicale che presenta una rima discorso ritmo il linguaggio di strada che viene eseguito o cantato in maniera diversa ok entrambi provengono dalla strada entrambi secondo me hanno come artisti personaggi che vogliono andare a creare qualcosa dentro l'ascoltatore si vuole andare a scuotere gli animi in genere sia i trap che i rap sono persone che io considero dei ribelli ok ora mentre nel rap abbiamo diciamo così una certa leggeressa di toni ok nel trap secondo me i toni sono molto più forti molto più sonori c'è una entità musicale che crea un certo impatto nell'ascoltatore ok anche per quanto riguarda il tipo di artisti trap e rapper ok i rapper secondo me sono un pochino più di sono un pochino più canonica non etichettabili tra virgolette nella normalità a livello di come si vestono di come si atteggiano di come si fanno vedere davanti alla videocamera invece i trapper sono un pochino più diciamo atipici nel modo di vestire nel modo di farsi vedere cioè sono più trasandati sono un pochino più diciamo così eccentrici nel modo di vestire e di porsi davanti a chi hanno in loro presenza ok quindi io penso che i due generi siano molto simili tra di loro entrambi nascono dalla strada questo è un mio parere un mio giudizio una mia opinione un mio punto di vista sia ben chiaro ma le tonalità del trap sono tonalità molto più forti molto più rigogliose molto più abbacinanti molto più forti più cautiche a livello acustico invece per quanto riguarda il rap le tonalità sono meno acustiche sono un pochino meno forti e gli artisti rapper sono meno eccentrici nel modo di vestire di porsi davanti alla videocamera nel modo di cantare invece i trapper i trap quelli che fanno trap secondo me sono più trasandati e si vestono in maniera molto eccentrica probabilmente per farsi vedere probabilmente per farsi notare ok sia chiaro che questa ovviamente è la mia opinione probabilmente ho sbagliato nel descrivere il genere rap e trap spero di averci preso in alcune cose mi auguro ma non lo so se effettivamente quello che ho sparato che ho detto in questo video di oggi corrisponde alla verità oppure corrisponde a diciamo così situazioni di errore di chiamiamolo sbaglio va bene ora io vi chiedo ovviamente un parere io vi chiedo ovviamente un punto di vista una vostra opinione dicendomi io leandro penso questo del trap io leandro penso questo del rap ok ora non dovete scrivermi a io penso che ti sei sbagliato insomma ed è tutte cazzate cioè sì potete anche scriverlo però utilizzate la educazione perché purtroppo sono estremamente per maloso va bene detto questo quindi qual è dei due caro leandro mi potrebbe chiedere qualcuno qual è secondo te caro leandro tra i due tra il trap e il rap il migliore cioè quale preferisci tu ecco io rispondo subito tra il trap e il rap sicuramente il rap il rap va bene no assoluto al trap va bene perché il rap mi piace comunque è pienamente orecchiabile acusticamente parlando a un'acustica migliore secondo me ci sono tonalità più percepibili più orecchiabili il trap no a livello di contenuti sonori sono troppo frenetici troppo diciamo così eccentrici e dal punto di vista estetico comunque un artista trap mi rappresenta ben poco cioè non mi da diciamo così garanzie attenzione io però non è che guardo l'estetica del trapper cioè di chi fa trap ok però io vado a guardare essenzialmente acustica cioè la musica che propongono ok i genere musicale che viene ad essere sottoposto alla mia attenzione poi eventualmente se qualcuno mi dovesse chiedere ma invece a livello estetico tu leandro chi preferisci ecco io senza falsa retorica come direbbe andrà di pre risponderei a mani basse io preferisco il rap grazie il video termina qua questa è la mia opinione barra visione di trap e rap iscrivetevi al canale commentate un saluto e al prossimo video